allora ciao ragazzi appena fatto 33 chilometri visto che tra meno di un mese finalmente ritorno a gareggiare ho corso lungo l'argine del po approfittando di questo ho guardato anche il livello del fiume e le sue condizioni ma purtroppo non sono ottimali per andare a improntare una sessione di pesca redditizia e penso non lo saranno ancora per un bel po visto le piogge incessanti di questi giorni bene tornando invece al car fishing vi volevo dare due consigli per andare a ottimizzare l'utilizzo di liquid food dei quali mi sono dei quali ho preso alcuni che mi erano terminati nel che erano terminati nella mia scorta in particolare il liquid plankton idro e il liquid liver idro due liquid food superlativi sottoposti a processo di idrolisi enzimatica e il cornstip liquor che io vado a utilizzare spesso insieme a un altro liquid food per andare ad attivare tutti quei processi di fermentazione all'interno delle mie esche self made e i cui metodi e descrizioni li trovate se vorrete all'interno della sezione articoli protetti presente su carmagazine.it ma come facciamo ad ottimizzare l'utilizzo di liquid food appunto andandola a inserire all'interno di poche esche di super qualità e quindi super attrattive che ci permetteranno di fare la differenza in tutta quella moltitudine di esca che la maggior parte degli anglers lancia in acqua all'interno di questi comodi barattoli questo per esempio un mix winter mix fatto da me ideato da me senza l'utilizzo di uova o suoi sostituti o derivati lo trovate anche questo all'interno della sezione articoli protetti io vado a inserire alcuni liquid food poi vado a congelare immediatamente il tutto perché perché il processo di congelamento e di scongelamento permette al liquid food di entrare nella struttura molecolare dell'esca perché il momento in cui andiamo a congelare l'esca si contrae quando andiamo a scongelare l'esca si espande e quindi liquid food entra nell'esca in un modo ottimale bene detto questo riguardo appunto l'utilizzo e le mia idea mia personale idea perché io non ho le verità assolute chi vede chi ha visto i miei video passati ma anche chi mi segue mi ha seguito sulle riviste tecniche anche io ho sempre detto che le mie so che il mio solo voglio solo comunicare il mio personale modo di pensare il mio personale modo di intendere il car fishing a differenza di quelli invece che vogliono a forza vendervi delle verità assolute quindi vi do soltanto degli spunti di riflessione che vi ricordo sono anche presenti all'interno di questo libro qua sì ho scritto anche un libro per chi non lo sapesse qualcosina so scrivere anch'io car magazine collection dal carpista tradizionale all'anti convenzionale lo trovate nel link in descrizione ma anche in tutte le libri online e anche su amazon in particolare appunto parlando della mia personale idea della pasturazione c'è proprio tra i vari capitoli sono 22 i capitoli vi ricordo che il libro consta di 245 pagine completamente a colori al prezzo di 25 euro c'è anche la versione ebook per chi la preferisse quindi dicevo capitolo 19 c'è proprio un articolo un capitolo scusate dedicato a si chiama la via del non pasturare riflessioni che vi invito a leggere e poi a farvi una vostra idea concludo il video parlando di alcune piccole novità che però ci tengo a dirlo perché sono prodotti di altissima qualità e che quello che sono cambiati packaging delle paste della feed stimulants riguardo le due linee di esche ready made seafood cocktail pasta eccolo qua questo è il nuovo packaging prima era questo qui un po anonimo adesso è un po più carino e poi abbiamo l'insect cream sempre pasta e poi vi ricordo anche che ci sono i booster per andare a dare una marcia di più ai vostri inneschi ready made ma anche self made in formato spray sempre correlate le due linee insect cream e seafood cocktail bene ragazzi questo è quanto ci aggiorniamo più avanti vi auguro di passare una buona pasqua con le vostre famiglie o con chi vorrete voi ciao anglers